Dalle cascate siamo passati a Val Bondione in paese dove si sta svolgendo la terza sagra del formaggio e dei sapori seriani. Una sagra che punta proprio sulle tipicità bergamasche, chiediamo dunque ad Alice di spiegarci un po' chi sta esponendo oggi. Certo sicuramente, innanzitutto ovviamente legato al formaggio i produttori locali, quindi abbiamo delle aziende proprio dai paesi vicini e poi appunto in collaborazione con Promo Serio abbiamo questo stand dei sapori seriani, quindi una serie di prodotti che vanno dal biscotto della Val Gandino alla patata di Rovetta al vino di Alzano proprio selezionati da Promo Serio per essere colloncati all'interno di questo marchio appunto sapori seriani. Poi appunto come dicevo dal formaggio fino al miele e biscotti, produzioni ovviamente locali nostre. Quindi non solo cascate, si vuole offrire qualcosa di più, sappiamo che l'estate è andata molto bene, qui ci vuoi raccontare un po'? Certo sicuramente, nonostante oggi appunto sia una giornata ormai autunnale, appunto l'estate è andata molto bene, grazie sicuramente al tempo che è stato molto clemente, alla nostra cascata che nei giorni di apertura richiama sempre tantissima gente, poi comunque ha un calendario ricco di eventi, da quelli culturali a quelli sportivi per bambini eccetera, quindi posso dire sì sicuramente è andato molto bene. E la cosa più interessante forse è che le persone vengono proprio da fuori, addirittura anche da fuori Italia, insomma c'è proprio un interesse su questa zona della Valseriana. Sì, quello ecco è una cosa che abbiamo notato soprattutto quest'anno, un grande turismo forse legato appunto anche all'aeroporto vicino eccetera, estero e anche appunto sicuramente anche italiano al di fuori della provincia di Bergamo, sia per quanto riguarda proprio le cascate, perché notiamo che molto spesso dalla richiesta di informazioni che ci arriva è sempre gente nuova che viene a vedere la cascata e quindi appunto questo ci fa molto piacere perché vuol dire che comunque è conosciuta e poi appunto in questo ultimo periodo sicuramente anche dall'estero, ovviamente inglesi, dicevamo la Polonia e poi anche abbiamo notato l'Olanda e comunque il nord Europa. Come siete organizzati come ufficio turistico? Come lavorate in anticipo sulle stagioni immagino? Sì, quello per forza perché insomma il calendario stagionale deve essere pronto a inizio stagione, quindi noi cerchiamo di anticipare un po' i tempi, l'estate abbiamo avuto la presenza anche di una stagista e quindi siamo riusciti a garantire proprio l'apertura tutti i giorni, sia mattino che pomeriggio e questo abbiamo visto che è molto importante perché ovviamente l'ufficio turistico è fondamentale, è il punto di riferimento un po' per chi arriva e non conosce la zona. Vogliamo fare un appunto però Alice con te, molte persone non sono equipaggiate nella maniera giusta, come mai? Eh questa è una cosa che anche noi abbiamo notato, nonostante appunto chi chieda informazioni dal nostro punto di vista è sempre informato da parte nostra perché noi ci teniamo molto a sottolineare per esempio per la cascata che c'è una passeggiata da fare a piedi, che c'è un sentiero sterrato, però molto spesso appunto le persone non sono attrezzate. Forse è anche legato al fatto che qualcuno piuttosto che fare una telefonata legge in internet e le informazioni che ci sono in internet a volte non sono proprio diciamo così quelle più giuste. Quindi ribadiamo, rivolgetevi all'ufficio turistico che vi darà tutte le informazioni giuste, ci lasciamo parlando dell'inverno, che cosa ci aspetta qui a Val Bondione? Ma noi innanzitutto speriamo la neve sicuramente e appunto Val Bondione come tutti sanno è legata agli impianti scistici di Lizzola quindi ovviamente la nostra stagione invernale è legata soprattutto alla neve. Gli impianti di risalita quindi appunto Lizzola per lo sci di discesa e poi ovviamente anche la pista di fondo a casa Corti quindi noi abbiamo queste due realtà che funzionano sempre molto bene.